ciao amici ho una sorpresa per tutti i golosi di cioccolato vi regalo la ricetta per un golosissimo budino cremoso cacao e menta è ideale come dessert quando volete qualcosa di morbido e goloso cremoso e confortante il budino più apprezzato è sicuramente quello classico al cacao ma della sua famiglia fanno parte anche le creme in tazza il creme caramelle le bavaresi io amo il cioccolato goloso e amico della linea la ricetta di oggi è senza sensi di colpa perché è senza latte senza zucchero e con cioccolato fondente se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco come si prepara budino cremoso cacao e menta 200 g di cioccolato fondente 300 g di yogurt di soia al naturale una presa di cardamomo in polvere un cucchiaio di stevia in polvere qualche foglia di menta piperita fresca mi hai fatto venire l'acquolina in bocca è anche veloce da fare 1 preparazione del cioccolato rompete il cioccolato a pezzetti e mettetelo a scaldare a bagnomaria in un recipiente adatto finché non sarà sciolto 2 preparazione dello yogurt nel frattempo mescolate lo yogurt con la stevia e il cardamomo 3 unione degli ingredienti unite yogurt e cioccolato e mescolate delicatamente dividete in quattro coppette servite con una o due foglie di menta decorative proprietà degli ingredienti principali il cioccolato fondente minimo al 70 per cento aiuta l'organismo a combattere il colesterolo e abbassa la pressione contiene antiossidanti amici della pelle che contrastano i radicali liberi lo yogurt di soia è di origine vegetale e ha un apporto di grassi quasi nulla è lo yogurt più indicato per chi vuole dimagrire il cardamomo è una spezia brucia grassi con proprietà snellenti perché accelera il metabolismo la stevia dolcifica più dello zucchero ma non apporta calorie e non innalza la glicemia perfetta nelle diete dimagranti la menta piperita ha proprietà rinfrescanti antifermentative è utile in caso di colite e disturbi gastrointestinali il budino cremoso non è solo buonissimo fa bene al cuore allontana la tristezza da energia fisica e mentale e secondo alcuni studi stimola l'eros grazie alle fenille tilamine presenti nel cacao note per attivare il desiderio per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche mangia consapevole e dimagrisci diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri e ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao